sono vauro mi chiamo con uno pseudonimo ma questo pseudonimo è il mio nome di battesimo sono anche battezzato chi sono solo uno che c'ha 69 anni e ancora non l'ha capito benissimo e spera di avere ancora il tempo per capire per capire chi sono per lo meno ma io credo che non si capisca mai chi si è finché ci si spende e io sto cercando non da oggi di spendermi per la pace il mio lavoro con girostrada con emergency i miei reportage dalle zone di guerra mi chiamavo da solo mi auto definivo inviato di pace perché la parola guerra non mi piace il valore della pace è una delle poche certezze che ho acquisito ed è per questo che sono candidato nella lista pace terra dignità perché in questa lista la prima parola è pace e in quella parola mi riconosco e spero che si riconoscano in la prima parola mi riconosco e spero che si riconoscano in